Da decenni il litorale Veneto subisce la carenza di una viabilità d'accesso alle varie località non all'altezza delle presenze turistiche registrate soprattutto nella stagione estiva. Da 13 anni infatti, secondo il consigliere regionale Francesco Calzavara, il progetto di completamento della cosiddetta autostrada del mare attende il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che permetterebbe alla Regione Veneto di concludere l'iter per la sua assegnazione e verificarne la sostenibilità economica. Purtroppo è un percorso complicato che poi ha visto traversie anche di carattere giudiziario, ma oggi pensiamo e speriamo si possa arrivare quantomeno alla chiusura del percorso di assegnazione. Proprio in questi giorni il Cipe dovrebbe definitivamente accettare quest'opera e permettere alla Regione del Veneto di aprire le buste delle offerte che sono state consegnate al tempo della gara. Da lì l'aggiudicazione a quello che sarà l'assegnatario e la verifica se le condizioni inserite all'interno di quel bando sono essenzialmente ancora sostenibili dal punto di vista economico. Ciò non togliere che l'opera è stata considerata forse l'unico progetto di finanza presentato alla Regione che avrebbe una sua sostenibilità finanziaria, proprio perché i flussi sono ancora aumentati e quindi una soluzione alternativa potrebbe essere che nuove società della Regione possano in qualche modo acquisire questo progetto e diventare loro i player per realizzare questa importantissima opera pubblica. E proprio per sostenere un piano strategico di infrastruttura e di interconnessione tra le spiagge del Veneto orientale, l'entroterra e il corridoio autostradale A4, l'onorevole Giorgia Andreuzza ha presentato al Governo un apposito emendamento al decreto rilancio. Il progetto in questo caso chiede allo Stato di finanziare per 160 milioni di euro una serie di infrastrutture che sono dei corridoi, che io definisco corridoi al mare, che partono dalla direttrice dell'autostrada A4 per attraversare la parte di entroterra e andare fino alle nostre spiagge da Eraclea, Iesolo e Il Cavallino. Sappiamo essere zone che fanno quasi 15 milioni di presenze, per cui molto importanti, con un traffico molto sostenuto, per cui l'accessibilità diventa fondamentale proprio abbinata al sistema turismo. Una novità fondamentale che viene richiesta in questo emendamento è che venga data alla Regione Veneto il ruolo di commissario speciale per queste opere, perché questo vorrebbe dire che se per fare un'opera ci vogliono mediamente otto anni di burocrazia, in questo caso con i fondi e con la possibilità da parte della Regione di esercitare la possibilità di intervenire nella progettualità in maniera diretta, sicuramente si riducono i tempi e si riesce a coordinare anche quelle che sono le competenze statali piuttosto che provinciali e comunali. Noi non vogliamo sconvolgere l'ambiente, ma vogliamo un'accessibilità al nostro territorio, sia per i nostri concittadini, sia per i nostri ospiti. Oggi le strade, così come sono, non garantiscono questo diritto fondamentale e non garantiscono quindi uno sviluppo della nostra comunità. Pertanto è fondamentale che si debba trovare le risorse e procedere. Da una situazione di difficoltà come quella del coronavirus devono venire veramente considerate le reali necessità dei nostri comuni, dei nostri territori e delle nostre comunità.